La missione Unifil delle Nazioni Unite ha denunciato di aver subito per il quarto giorno consecutivo attacchi dalle forze armate israeliane. Malgrado un contingente italiano faccia parte di questa forza di interposizione internazionale, c'è ancora il silenzio da parte di Mattarella, al quale la Costituzione attribuisce il comando delle forze armate. Questo silenzio risulta particolarmente assordante quando si tratta di un individuo estremamente prodigo di esternazioni in materia di politica internazionale, e che si espande a spese delle competenze strettamente governative. Mattarella ama anche invitare a sanzionare le violazioni del diritto, ma ovviamente non quando si tratta di Israele, che per esempio, ha bombardato la notte scorsa un ospedale a Gaza, episodio nel quale decine di persone sono state arse vive. Crimini che, tuttavia, non saranno un ostacolo a che stasera si giochi a Udine la ormai conosciuta come partita della vergogna, tra l'Italia e Israele. A proposito, l'onore di realizzare il calcio d'inizio dovrebbe essere riservato al temporaneamente muto Mattarella.